venerdì 28 giugno 2013 siamo qui a Sherwood 13 anche con un hashtag davanti e siamo qui con i ministri buonasera ragazzi buonasera a tutti buonasera Davide Michele Federico è un piacere avervi qui un'altra volta sul palco dello Sherwood Festival l'ultima volta che siete stati qui l'avete aperto voi ma sai che onestamente non ricordo penso che comunque eravamo prima serata headliner anche in quel caso concerto a un euro ed era stata una bella bolgia è stato un successone insomma possiamo ricordarci sempre di un passato migliore che poi ricorda anche un po il vostro ultimo album per un passato migliore appunto che vi sta dando abbastanza soddisfazioni direi tanta al momento tantissima nel senso che doveva essere un disco diciamo che svoltasse sotto certi punti di vista da un punto di vista anche proprio di musicalità cioè doveva cambiare proprio da quel punto di vista e idem il tour secondo me ha acquisito anche una nuova anima e soprattutto abbiamo diciamo consolidato un rapporto con un pubblico vecchio che avevamo che sicuramente cioè serve a noi come fan base e tutto però paradossalmente pur essendo un disco più duro degli altri di quelli precedenti in realtà è un disco che è arrivato molto anche a persone che non reputavamo comunque il nostro bacino d'utenza inizialmente io devo dire una cosa che mi ritrovo nelle parole che ho letto anche dal produttore di questo disco poi che colliva che diceva che in effetti questa volta questo disco suona live io sono sempre stato un amante dei ministri live e nel disco non coglievo quello stesso aspetto che forse finalmente quando ho sentito comunque partire la prima volta ho detto è un live non l'ho mai sentito però non l'ho mai sentito e mi ha fatto strano sì è stato impostato tutto il disco su questa linea di pensiero e ho rotto un sacco le palle anch'io su questa cosa qua devo dire sono sono molto contento che siamo riusciti proprio a dare una bella botta sul disco più che negli altri perché abbiamo deciso di andare noi tre in saletta suonare noi tre fare i pezzi che stessero in piedi su di noi in modo tale da un po' richiamare questa cosa qua cioè la botta dal vivo che avevamo e che abbiamo tuttora e siamo stati molto contenti e Tommy ci ha dato una mano per metterlo la verità è che comunque ci voleva tempo nel senso che per effettivamente entrare in studio e non dover ricorrere alle magie alla magia nera del digitale bisogna provare tanto e le altre volte spesso non avevano davvero il tempo quindi in realtà i pezzi suonavano bene tipo tipo dopo dalla metà del tour in poi cioè quando le aveva suonato tanti dal vivo in questo caso abbiamo ci siamo fermati per un anno e abbiamo abbiamo provato così avevamo anche la situazione per riuscire a fermarci avere giusto due lire per pagarci l'affitto almeno perché prima no certo io noto pensando proprio a comunque un altro esempio di veggenza anticipata proprio della musica italiana come già successo con lo stato sociale che parlava di un mario presentato alle elezioni poi e ogni cosa che voi avete giurato non valere nulla anzi non valere niente all'interno di comunque si sta piano piano verificando anche grazie alle promesse di ben altri ministri allora una variazione di produzione da parte di altri tipi di ministri potrebbe portare una variazione simile a quella che avete avuto voi in questo disco secondo voi diciamo che se c'è qualcosa se in italia mi devo fidare di qualcuno non so noi abbiamo abbastanza imparato a fidarci della gente in questi anni e poi hai delle elezioni dove ogni volta ti sembra che che la gente sia la cosa più inaffidabile che abbiamo in italia e che quindi dopo porti su a come dire a prendere decisioni della delle persone al dire non è una questione di antipolitica è proprio è proprio di dire ma questo paese vuole sempre questo vuole ogni volta sbagliare ripartire quindi non riesco più a capire sinceramente non potrei farlo se non con un davvero un commento un po da bar se il problema della dell'italia è in chi la rappresenta o su o in chi sceglie di essere rappresentato l'unica cosa che che credo è che sia possibile portare avanti dei modelli come anche radio sharewood come lo sharewood festival come rivolta con cui abbiamo avuto spesso a che fare e come spero cerchiamo di fare noi di portare avanti dei modelli sostenibili e diversi e governati da leggi diverse e da un'onestà di un certo tipo e che questi modelli con cui tanta gente entra in contatto pian piano incominciano a dare l'esempio per poter fare qualcosa in un modo davvero diverso che quindi dopo che questa fiducia sia contagiosa io in fondo credo ancora in questo se a volte mi ritrovo a non credere nella gente non credere nei politici credo perlomeno nell'onestà che forse forse paga 90 giorni però insomma sembra semplicistico dirlo così ma onestà in quanto tale onestà intellettuale sono le basi per poter governare un paese se non ci sono entrambe è l'ora di che cosa stiamo parlando di barzellette quindi la sfiducia è tanta perché in passato è già stato dimostrato che queste due qualità sono abbastanza rare a livello di organigramma politico ma anche di partito e cose simili quindi io sinceramente non mi sento rappresentato da nessuno in questo momento è una condizione abbastanza comune non comune è la situazione in cui vi siete ritrovati voi che partite sì veramente dal piccolo dal basso alla fine sono nove anni di attività come band sette anni di discografia se non mi sbaglio però siete partiti comunque appunto come degli indipendenti in tutti i sensi e cercate di rimanere tali però voi quel salto l'avete fatto quello che vi portavo diciamo dall'essere considerati i nuovi after hours da parte di una certa critica che voleva dei titoli altisonanti per definirvi prima dei soldi sono finiti c'è bisogno di punti di riferimento bisogna sempre tarare la bussola su chi sta appunto per questo tu quanto devi tarare la tua bussola adesso che vi trovate anche in un altro tipo di mercato rispetto a quello che sentite vostro primo perché ci siete cresciuti secondo perché anche voi siete parte di quel pubblico io credo personalmente credo che in realtà è vero noi abbiamo cominciato da indipendenti c'è stato un salto nel momento in cui abbiamo avuto delle attenzioni da parte di una major e poi in realtà abbiamo intrapreso un percorso con una major per tornare oggi diciamo a dividere un lavoro da indipendente però comunque con una componente majoristica all'interno perché di fatto siamo comunque in licenza con una major oggi però secondo me anche oggi come dire quella netta differenza che magari una volta c'era o comunque in generale se ne parlava molto tra musica indipendente e musica major secondo me oggi per come stanno messe le major e soprattutto per come sono messe le indipendenti è andata pian piano davvero a cadere è un muro che non esiste più o se è un muro è un muretto cioè lo valichi un giorno e ci ritorni dall'altra parte un altro giorno e molte delle realtà indipendenti in realtà hanno molto a che vedere lavorano molto spesso con le major oggi quindi nel nostro caso è stato un atteggiamento che ci ha premiato non tanto una posizione all'interno di una major o di un concetto di musica indipendente siamo nati probabilmente in una congiunzione astrale positiva da questo punto di vista ci ha permesso di poter essere degli indipendenti con un'attrazione da parte delle major e questo cioè alla fine è positivo nel senso che stai un po' di qua un po' di là però alla fine nel senso il pubblico riconosce che non sei comunque un fenomeno commerciale sputtanato da una major e che comunque hai dei contenuti che le indipendenti nonostante siano anche delle belle spocchiose talvolta in realtà riconoscono positivi ma voi in questo modo riuscite comunque a gestirvi gestire proprio voi stessi esattamente come prima o vi dovete porre voi dei muretti da una vita che ci gestiamo in tutto in tutto nel senso da qualsiasi tutto cioè non c'è mai stato un momento in cui qualcuno ci ha gestito qualcosa tranne le date i concerti che comunque pianifichiamo con la nostra booking perché con cui siamo cresciuti quindi abbiamo lo stesso spirito però il resto è tutto assolutamente autogestito con anche gran fatica adesso perché nel senso noi teniamo una comunicazione anche su Facebook con un sacco di contenuti un'anno candina per concerto video, roba e così via e le facciamo mentre siamo in tour quindi però appunto come dire il concerto il momento in cui dopo vedi che effettivamente la gente sta arrivando e dopo l'organizzazione ti paga perché e ti paga contenta perché anche lei ci ha guadagnato e tutti ci hanno guadagnato cioè al di là di qualsiasi cosa indipendente major è quello il punto perché se a noi incomincia ad andare male è quello cioè se non abbiamo più la gente poi possiamo anche essere non lo so sul giornaletto o di qua di là ma noi non prendiamo soldi dai dischi prendiamo solo soldi dai concerti quindi è davvero è proprio una cosa una cosa di ciccia non so come dire c'è solo quello siamo proprio siamo come il circo di Mauro Orfei poi volevo dire io sono Moira volevo dire che il fatto che molte persone a volte si lamentano del fatto adesso è un periodo assolutamente assurdo per la musica pochi soldi per i budget pochi soldi per i video è assolutamente vero si fa assolutamente fatica ma questa cosa qua fa sì anche che secondo il mio parere il monesto parere si possa diciamo anche essere un po' più liberi non so come dire un po' più liberi a livello di testa per riuscire a trovare nuove idee nuove cose con difficoltà è assolutamente vero come diceva Fede che poi tra l'altro le fa soprattutto anche lui le locandine le cose ci si sbatte un sacco però si fanno delle cose divertenti che a un livello istituzionale potrebbero sembrare un pochettino strane come ci veniva detto agli inizi dei soldi sono finiti no della sorta di essere super friendly su qualsiasi piattaforma di internet e allora invece adesso è diventato la comunicazione smart un pochettino più semplice è diventato fondamentale se non la comunicazione a riguardo certamente e di queste locandine fanno anche parte le foto scattate in autogrill o dalle telecamere di sicurezza sono delle cose molto carine i concerti dei ministri sono conosciuti e questa vuole essere la mia ultima domanda anche per un altro lato che è dall'altra parte del palco ovvero sia è pieno di donne a cosa è dovuta questa svolta della band appunto perché tutta questa vicinanza siamo carini comunque esatto cioè chi fa questo genere si porta con sé tanti uomini spesso anche brutti d'aspetto perché lo sono anche loro quindi la cosa strana è che non dico che siamo dei megafighi da Miss Italia perché teniamo tutte e tre delle belle guanzette da birra però comunque almeno diciamo ce la caviamo meglio della media dei rockers abbiamo la tartaruga al contrario e questo è stato sufficiente cioè non riesco a capire come Chris Martin possa essere l'uomo più figo del mondo nel rock però lo capisco nel senso basta essere carini a fare quella cosa non lo fa nessuno e basta allora ultimissima cosa poi chiudiamo i progetti assieme agli altri li conosciamo da un disco degli Yoris Ice seguito da te a un amorale con gli Zensier per un album eccezionale che è stato seguito da voi per i cori insomma ci sono pezzi di ministri anche in album passati di caparezza e tutto e il prossimo quello che dobbiamo ancora vedere che cosa sarà internazionale probabilmente no vabbè però intanto settimana prossima abbiamo abbiamo in realtà precettato un un Marto sui tubi che abbiamo che abbiamo rubato e insomma sequestrato sì Marta ci hanno denunciato lo stiamo tenendo lì in caldo e lo useremo al momento giusto è un violencellizza quindi cercherà di dare come dire una patina più colta invece all'ignoranza che regna indomita sul palco però in realtà ce ne sarebbero ce ne sarebbero tanti di 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 cose che ci interesserebbe fare assieme ad altri colleghi ti dico però secondo me la nostra generazione chiamiamola di di musicisti di artisti come lo si vuol dire credo che abbia ancora tanto da dimostrare secondo me cioè nel senso che noi siamo appena nati e tutti noi siamo appena nati noi Dente Vasco Brondi tutti quanti no e credo che ci sia ancora ognuno debba fare ancora un po' di sentiero per con i suoi piedi su una sua strada e dimostrare davvero delle cose perché comunque noi ce la dobbiamo vedere in realtà secondo me con la musica in toto cioè questa roba che uno se la deve vedere solo contro gli altri indipendenti fa ridere cioè noi dobbiamo raggiungere dei livelli di scrittura di canzoni entrare nella memoria di questo cazzo di paese se ce la facciamo quindi dopo di farci tutte le pippe le canzoncine dove ci cantiamo in faccia l'un l'altro lo faremo quando saremo bolliti per ora cerchiamo di fare ciascuno i nostri viene anche bene da vecchi tra l'altro farlo ottima risposta grazie ai ministri sul palco per un po' Sherwood 13 grazie a tutti grazie a tutti